Buongiorno a tutti, oggi proseguiamo con i film di guerra affrontando una pellicola cosiddetta minore che non è molto nota ma secondo me ha degli aspetti molto interessanti per l'analisi che stiamo affrontando sui film di guerra. La pellicola è La squadriglia dei falchi rossi del 1970 di Boris Sagal. Parliamo di aeronautica inglese Royal Air Force, siamo nel 1944. La pellicola si colloca in un periodo storico, il film viene prodotto nel 69 poi esce in Italia nel 70 quindi si colloca in questo fine anni 60 quando una serie di altre pellicole sull'aeronautica in generale ma più nello specifico nell'aeronautica inglese nella seconda guerra mondiale ha un certo credito. Pensiamo appunto che nel 69 escano per dire i due film o lo stesso nome La battaglia d'Inghilterra, quello originale chiamiamolo così di Guy Hamilton tradotto in Italia con il nome I Lunghi in Giugno delle Aquile e quello italiano di Castellari. Quindi c'è un ritorno di interesse verso le missioni, l'attività della Royal Air Force e allo stesso tempo vi è un ritorno di interesse su tutta una tematica legata anche alle attività di sabotaggio, alle attività di cooperazione tra unità regolari delle forze armate alleate e quelle partigiane sussidiarie alla lotta contro, come quinta colonna, alla lotta contro il Terzo Reich nell'Europa occupata. La pellicola tra l'altro si ispira e prende anche spunti sostanziali, prende anche delle scene prese proprio pare pare da altre pellicole tra cui quella di squadrone 633 e operazione Cruise Boob. Da questo punto di vista appunto vengono prese queste sequenze sia nella parte di preparazione all'attività, all'azione principale sia appunto scene soprattutto di volo e questo ha favorito molto la produzione per rendere la pellicola come un film a basso budget, è evidente come l'utilizzo di espedienti, di effetti speciali che possano essere anche presi da altre pellicole ha sicuramente ridotto il budget. Secondo me questo film però ha come elemento preeminente la scelta di due attori che a me sono molto cari, nello specifico il protagonista indiscusso interpretato da David McCallum, David McCallum è un attore ancora vivente, un attore britannico che ha avuto modo negli anni di avere un'esperienza veramente molto ampia. Chi ha una certa età potrà ricordarlo nella telefilm di spionaggio, organizzazione UNCLE degli anni 60 che è poi stato anche trasposto in una serie di recenti, un film, quindi diciamo è un tema abbastanza ricorrente, oltre a avere David McCallum ha partecipato a tutta una serie di film, penso alla Grande Fuga che forse è uno dei suoi film principali ma anche tutta una serie di telefilm tra gli anni 70 e gli anni più recenti ha partecipato ai team, a Sex and the City, a JAG, Avvocati in Divisa, a NCIS, quindi da questo punto di vista ha una sua storia personale anche di attività molto ampie che gli ha dato anche oltreoceano negli Stati Uniti un certo credito che comunque ha dato anche lustro al suo approccio anche al suo figurativo con questo caschetto biondo, almeno in età più giovanile diciamo, nei tempi recenti il caschetto biondo l'ha un po' abbandonato, però da questo punto di vista McCallum ha un suo physique du rôle nell'interpretare i ruoli di pilota, in questo caso appunto della Royal Air Force nel film La Grande Fuga era un pilota della Royal Navy. L'altro attore molto interessante di questo film è il, come si viene definito come grado, il commodoro dell'aria interpretato da Charles Gray, Charles Gray è anche lui un grandissimo attore che tra l'altro chi è appassionato di film di James Bond che sono molti in questo canale lo ricorderà sia per una piccola parte in Si vive solo due volte sia nella parte di Ernest Stavro Blofeld nel film Una caschetta di amanti, oltre ad aver interpretato anche uno dei ruoli dei generali nella Notte dei Generali, che abbiamo tutti i film che abbiamo recensito su questo canale. E quindi da questo punto di vista è un film molto molto interessante perché tra l'altro appunto nonostante riprenda tematiche e anche scene di altre pellicole ha un qualcosa di originale, originale perché appunto la storia di fondo, a parte l'analisi dei personaggi, i rapporti interpersonali, c'è anche una storia d'amore sotto, problematiche legate alla fedeltà, al rispetto dei valori, dell'amicizia, quindi un qualcosa che condisce un po' tra le pieghe della narrazione storica, vi sono dei riferimenti molto molto espliciti all'operazione Gerico che all'inizio del 1944 aveva come proposito sia quello di liberare dei partigiani, dei detenuti politici, dei tedeschi in Francia, ma anche sono dei riferimenti chiari alla tutta quell'attività sia dietro le linee ma anche di attività di bombardamenti contro la preparazione di armi segrete, di armi, diciamo, l'arrivo di possibili bombe atomiche, ma non solo, soprattutto a livello di armi a reazione, i V1, i V2, quindi da questo punto di vista segue un po' quel ciclo che da operazione Cruzbub, che era stato molto notorio, molto famoso, dalla parte di gestione George Pepper, di Sophia Loren, di Tom Courtney, quindi da questo punto di vista seguiva un po' un percorso che aveva avuto i suoi seguaci. Per l'aspetto narrativo il film è abbastanza lineare con una sua trama che va un po' in base a più innesti in cui c'è l'elemento principale, quello di riuscire a portare avanti la missione, ma con, come dicevo, delle interferenze di rapporti interpersonali che andavano pure un po' a condire la nostra narrazione. È interessante citare come se la squadria dei Falchi Rossi, che tra l'altro appunto è il nome del titolo italiano perché in lingua inglese è Mosquito Squadron, che deriva dal tipo di aereo, l'Aviland Mosquito, che era un apparecchio molto versatile, molto adattabile a varie realtà, era essenzialmente un calcio a bombardiere, ma che aveva poi tutta una serie di declinazioni anche in attività sul mare, quindi venne poi utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale in più contesti. Quindi l'idea di affrontare la centralità di questo apparecchio, che aveva la sua versatilità, e poi utilizzato in questo film con l'utilizzo delle bombe rimbalzanti, che erano anche un elemento molto interessante dello sviluppo delle armi, degli equipaggiamenti in forza alle truppe alleate. E questo tra l'altro è esplicitamente espresso nel film perché in una riunione in cui il Commodoro, a modo di raccontare, di spiegare la missione e tutta la fase di preparazione in cui ci si va ad estrare per l'utilizzo di queste bombe, si vede anche appunto la vera utilizzo di queste bombe, tant'è che alcuni video che vengono proiettati durante questa riunione sono delle scene vere, dei documentari autentici di come queste bombe fossero utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi troviamo degli elementi tra loro eclettici nella proposizione narrativa, poi alla fine, a fattore comune, danno un film molto godibile da questo punto di vista. E tra l'altro, come dicevo, se è debitore di altre pellicole, a suo modo ha dato spunto, per esempio nel film Top Secret del trio Zucker-Abram Zucker, l'assalto al castello francese, si intende francese, poi in realtà Top Secret è ambientato nella Germania dell'Est e emergono come molto similari a quelle dell'assalto al castello francese in la squadra dei Falchi Rossi. Quindi abbiamo anche dei riferimenti successivi come in qualche modo ha dato il segno e ha dato ispirazione ad altre pellicole, seppur in chiave grottesca e demenziale. Quindi questo era essenzialmente il senso che volevo dare a questa pellicola, che come dicevo è un film che non in tanti conoscono, che magari chi è appassionato di storia dell'aeronautica ha visto, ha rivisto, può anche dare delle critiche. La ricostruzione per quanto abbastanza semplice fu comunque accurata, vennero impiegati delle piste originali della Royal Air Force, degli apparecchi un po' in qualche modo recuperati, si cercò sempre di limitare il più possibile il dispendio economico, se paragonato a produzioni molto più ampie come potrebbero essere i lunghi giorni delle acule di Guy Hamilton che era stato realizzato poco prima. Quindi questo è, io vi suggerisco di vederlo se avete avuto modo e vi invito come al solito a mettere mi piace, al video iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!